Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione FIPILI. In A1 in direzione Bologna si segnala la chiusura per lavori del tratto Traglio e Roncovilaccio fino al 28 febbraio, rimanendo in A1 per lavori di potenziamento del tratto Firenze Sud in Cisareggello, la notte di sabato 19 febbraio, in orario 21.6, sarà chiuso proprio il tratto compreso tra Firenze Sud e in Cisareggello in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, fino al 27 aprile in via Barli divieto di transito nel tratto da via Moschi a via Martellini. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!